Dare voce e raccogliere le voci dei migranti che vivono in Valtiberina, attraverso l'impegno di quattro associazioni di volontariato che stimolano i migranti a raccontarsi attraverso il linguaggio del teatro, dell'intervista, del documentario, superando la difficoltà di scrivere in una lingua non propria, con l'obiettivo di promuovere, attraverso le forme espressive dell'arte, collaboratori teatrali e di scrittura, l'integrazione degli immigrati con la popolazione locale. Questo progetto si chiama Voci Migranti ed è stato presentato ieri in comunità montana sia agli immigrati che alla cittadinanza, dal gruppo comunale Sansepolcro Alto Tevere, dai volontari di protezione civile, dall'associazione Nomad, da Meta Multimedia e dai volontari dell'archivio diaristico nazionale. Le quattro associazioni hanno elaborato l'idea del progetto durante il corso di formazione per progettisti denominato appunto dall'idea al progetto, un corso inserito nel programma Uncia in Valtiberina, nato dal protocollo fra la comunità montana e Cesvot, il centro servizi volontariato toscana, che insieme alla regione toscana finanzia l'iniziativa con il contributo dei comuni di Sansepolcro e Anghiari e della comunità montana e con il patrocinio della provincia e di tutti i comuni di ballata.